seconda vittoria consecutiva in campionato per la Fucenze contro un buon San Gregorio al comunale di Trasacco Sanderra schiera 5 fuori quota nell'11 titolare Giordani conferma in blocco la difesa vista all'esordio e sceglie De Foglio nel tridente accanto a Catalli pendenza terminale d'attacco al secondo minuto la Fucenze può già sbloccarla Catalli approfitta di un'incertezza avversaria e prova la botta sotto la traversa Palmieri mette in angolo al settimo è sempre Catalli a tentare la conclusione a giro da posizione defilata presa facile per Palmieri al quattordicesimo la bella giocata di Bisegna che supera la trequarti palla al piede trova il corridoio per De Foglio conclusione raso terra di precisione che finisce sul palo si resta sullo 0-0 almeno fino all'episodio che spezza gli equilibri della gara al diciottesimo il direttore di gara concede un calcio di rigore al San Gregorio per questo intervento di Di Fabio sul mazzaferro dal dischetto Anaya Ruiz che spiazza croce la Fucenze continua a fare la sua partita senza mai concedere il pallino del gioco all'avversaria al ventinovesimo arriva la rete del pari Catalli sulla battuta di un calcio d'angolo pennella al centro per Di Fabio che stacca di precisione e la infila alle spalle di un incolpevole Palmieri al trentaduesimo pendenza si mette in proprio e su un contropiede sceglie la soluzione personale botta di potenza a incrociare sul palo alla destra del portiere palla fuori di poco al trentaquattresimo ci prova Paiola per il San Gregorio destro centrale sfera sopra la traversa la Fucenze continua a tessere gioco e al trentottesimo arriva anche la rete che ribalta il risultato cross tagliato di defoglio dalla destra Catalli trova i tempi per insaccare di testa nell'angolino vicino e le emozioni del primo tempo non finiscono qua appena tre minuti prima dello scoccare del quarantacinquesimo Usman realizza il suo personale capolavoro dalla distanza 2 a 2 all'intervallo stessi 11 alla ripresa appena dopo due minuti la punizione dell'uomo più ispirato di giornata Catalli ci prova dai 25 metri palla di poco sopra lo specchio al quarto ancora Fucenze con la buona conclusione di Laguzzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo che impegna Palmieri ventitreesimo è pericoloso il San Gregorio sullo spunto di Anaia Ruiz che costringe Croce all'uscita provvidenziale e cambia tutto Giordani si passa al 3-5-2 per dare maggiore peso alla spinta al ventiquattresimo la doppia sostituzione nel tridente d'attacco fuori Catalli e defoglio dentro Luca Mozzetti e Facundo Blanco al trentacinquesimo la rete dà centravanti puro che fa esplodere gli spalti e non accadrà più nulla i rosso-blu trovano la seconda vittoria di file e festeggiano sotto la tribuna di casa in attesa di raggiungere la forma fisica ottimale primo stop stagionale per il San Gregorio che porta a casa la buona personalità di una squadra giovanissima al cospetto di una delle protagoniste d'alta classifica frattata di una squadra poi non accadrà più nulla poi non accadrà più nulla Grazie. 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 Grazie.